Ciao a tutti gli amici di Gossip in the News, purtroppo, dobbiamo condividere una notizia che ha toccato profondamente il cuore dei fan della televisione, la scomparsa di un grande attore. Un volto noto della Rai, noto per il suo indimenticabile ruolo in un'amata serie televisiva. Il suo talento ha attraversato generazioni, diventando un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. Scopriamo tutto di lui guardando il video completo.